Dicono che questa riforma semplifica. È falso. Questa riforma renderà ancor più complicate le procedure parlamentari. Si passerà da quello che si chiama il bicameralismo perfetto a un bicameralismo pasticciato, enormemente pasticciato, perché questi articoli sono scritti male, in modo indecente, e pensati in modo ancora peggiore. Creano una confusione gigantesca tra poteri, rispetto alla quale solo uno se ne avvantaggerà, il vertice, il leader, il capo, l'uomo solo al comando. E di uomini soli al comando non ne vogliamo. Grazie a tutti.